l'avete visto il video che ho postato lì di quando abbiamo fatto l'uscita col gombone oh mi parte ok come meno male che l'ha mancato si ma è il nostro il video è commesso su instagram un altro giorno si credo di si quello in cui alla fine sono volato via no quello me lo sono perso aspetta cosa dopo guarda il mio ultimo è una raccolta la se la seconda roba è un video non c'è scritto vuoi chi sia di blu ma no troppo alto però c'è una tua io cane non avevo come damn you will not gonna answer like that oh i'm happy quasi vada come si fa non vi sto perché non vi sto cagando ora comincio a tipare dai sì certo altra zona già forse intanto non si può dato non si può dopo 50 secondi per cui inutile anche dirlo mai raga potete riprenderla sta partita fate solo ci sono solo 3 kill dai sono 3 kill auto gold vai raga avete 4 minuti per fare 4 kill questa è la prima non scrivere niente non scrivere niente appena siamo in vantaggio se siamo in vantaggio e poi due gol e un gol l'hanno fatto mica ha fatto tutto lì nooo ha cambiato che è successo? dove va? ah ce l'ho in mano oh 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 eh non mi aspettavi il tipo che c'è la tiffa dai mi avvicino pure la tv per ti fare meglio ezz non scrivere niente ora poi ci ripensiamo niente 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 zitti zitti poi alla fine ezz no no poi alla fine se vinciamo surrende surrende ops puntini puntini ok Ok? Vai, vai, raga. Il mio tifo funziona, dai. Sono qui pronta. Oh! Meno male, meno male che... Eh, no, meno male potremmo segnare. Eh, lo so, però, poteva andare... Eh, poteva andare così, porco Dio. Che culo di merda. Eh, ho sbagliato il calcolato maleta. Eh, ma tu ci ha fregato i ultimi due con questo tiro. Boh, boh, dai. Ti prende per il culo perché hai fatto 32 punti. Oh no, non lo farò. Ogni autostima ne risentirò un bel po'. Sta dicendo che è solo un carriato, per caso. Non ci credo che non è entrata con la palla. Non ci credo. Non ci fucking credo. Non ci fucking credo. Dio. Già, si entrava, si entrava. Dio, ecco. Guarda, guarda com'è entra questa palla. Non viene anche la tua parata, eh. Eeeh, si. Chiesa entrava. Andala via. Prenda. Quante esplosioni tutte nuove. Albo? Eh, non potevo. Contro il mur. No, ma che cazzo. Oh. Sto chiedendo un maggiore, non ci sto capendo una mappa. Una mappa. Una mappa. Grande. Ho rubato la kill. Eh, l'hai fatto bene, l'hai fatto bene. Cioè, è successo un macello. Ho visto gente che creava sembramenti. Le vostre macchinine hanno la mascherina. Tanto, zitti, 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 zitti. La partita è aperta. Quello ha spostuto tutto il tempo. Oh, che culo. Perché non è esploso il bastardo? No. No. Oh. Oh. Allora, nel caso io c'ho Ops sotto e poi a destra. Io c'ho fichissimo, allora io ce l'ho, non ce l'hai Ops. Aspetta, sto controllando. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Giù a destra. Nel caso vincessimo la facciamo. Facciamo solo quello, nient'altro. No, no. Merda. Vai, 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 vai. No! Guardalo! Così, no! Così, no! Così, no! Così, no! Tantissimo, così! Mamma mia! Mamma mia! Questa la carichiamo! Non esultare per rispetto. Ho solo fatto una risata. Una puntetta. Vabbè, un abbandonato quello online pro play. Tutte e due! Ah no, questa è rimasta. Mamma mia! Guardala. Guardala.